Tono Calipo Calabria in fermento per la sfida di domani contro gli ambiziosi neopromossi della Emma Villa Siena. Al Palavalenze andrà in scena una gara tutta da seguire tra due compagini che sono state etichettate in serie di volley di mercato come le principali favorite alla vittoria del campionato. Nel 2001 il primo scontro era il campionato di serie A2 e anche allora era il mese di novembre. I giolorossi di coach da bordo espugnarono il campo di Santa Croce al tie-break grazie ai 22 punti realizzati dalla brasiliano Esteves. Vibo cercherà di riscattare il passo falso interno della prima giornata con la sconfitta di 1-3 contro Civita Castellana anche se nel secondo turno ha già conquistato il successo andando a vincere a Tuscania. Ma coach Mastrangelo vorrà di certo conquistare i primi punti casalinghi della stagione. Tre punti di forza alla classe e all'esperienza di Capitan Casoli, una carriera infinita, un palmares lunghissimo con tante vittorie di club tra Cuneo, Treviso e Modena e 120 partite in nazionale con la vittoria di due World League. Accanto a lui vedo Votto e De Paola mentre all'opposto Mialovic l'anno scorso a Ortona è l'uomo da tenere d'occhio con particolare attenzione. In cabina di regia Pinelli, uomo di fiducia di Mastrangelo che l'ha portato con seda matera e nelle retrovie occhio al folletto Marra. In B1, basi grafiche, Lago Negro vuole riscattare la caduta della scorsa settimana in quel di Gioia del Colle. Domani al Palasimone arriva un'Ancona ancora a secco di punti ma da non sottovalutare. In Serie C, Spespray attende un'altra New Entry del campionato, Mail Post Vibo Valencia. New Entry che però vanta tra le sue fila giocatori di esperienza e non solo giovani leve. Mister Borrelli non si dice preoccupato ma non vuole lasciare nulla al caso. Ci stiamo allenando duramente, fa sapere l'allenatore praiese. Tutti i ragazzi, in totale 17, sono disponibili. Con l'allenamento di questa sera dovrò scegliere la rosa da schierare domenica. Non sarà facile lasciare fuori qualcuno, sono tutti in ottima forma. Quella contro Mail Post Vibo sarà una gara da giocare bene. Come abbiamo più volte ribadito, non abbiamo intenzione di lasciare punti per strada. Le altre due tirreniche, DRS Lio Gruppo Cetraro e Scuola Volley Paola, saranno entrambe in trasferta. La prima è in casa dell'attuale capolista Bagnara e Paola sarà tra le mura di un Castrovillari ancora in coda alla classifica.